Il Circolo Socioculturale Pontorno, e la Lega Navale di Savona e Spotorno con il patrocinio del Comune di Spotorno rendono noto che, sabato 7 aprile ore 16 alla Sala Convegni Polas via Aurelia 121 Spotorno, Mirco Tarditi della Lega Navale di Savona terrà la conversazione. I colori dell'acqua dagli ecosistemi del Mar Ligure, dalle tematiche legate alla morfologia marina della costa alla vita nascosta sia animale che vegetale presente nel nostro mare. Dal mondo sotterraneo terrestre, tema affrontato nel precedente incontro pubblico, si passa al mondo marino le cui tematiche sono altrettanto importanti per un paese come Spotorno che si affaccia su un mare profondo, ricchissimo di biodiversità, con specie che per colori e forme sono difficilmente immaginabili se non viste, un mare con un ecosistema tale da essere stato dichiarato area marina protetta nell'ambito del più esteso santuario dei cetacei e anche un mare fonte di reddito per tanti. Spoturnesi. Al termine della conversazione aperitivo offerto dal Circolo Culturale Pontorno. I cittadini sono invitati. I cittadini. Grazie a tutti.